Nella casa del grande fratello Vip il clima piuttosto rilassato sia tra gli aggiati che tra gli abitanti di Tristopoli, e per ingannare il tempo cosa si inventato Cristiano Malgioglio. Una serie di interviste per conoscere meglio i suoi coinquilini. La prima vittima sacrificale è stata la bellissima Ida Jespica che parlando di interventi chirurgici ha lanciato una frecciatina alla cerrima nemica Belen Rodriguez. Ricordiamo che nel 2008 le due avevano partecipato all'Isola dei Famosi e se ne erano date di Santa Ragione Aida Jespica e Belen Rodriguez Le foto sexy 17 Quale cuorissi te vorresti toglierti su Belen? Chiede Malgioglio alla Venezuelana E la bellissima Ida Jespica ha replicato Le chiederei Perch si rifatta il culo cos grande La modella, quindi, ha toccato un tema piuttosto caldo Visto che la Rodriguez ha sempre negato di essersi sottoposta a un simile intervento chirurgico Ma dopo la curiosità della Jespica Sono seguiti una carrellata di complimenti per Belen Rodriguez Comunque ha successo Perch brava Sa cantare Sa ballare Simpatica Insomma, la venezuelana ha trovato il modo per targiversare e cambiare discorso Discorso al quale è seguita la confessione di Giulia De Lellis in merito ai suoi ritocchini Ogni anno devo rifarmi le labbra Poi mi sono rifatta il seno Ma sono un po' pentita Perch e volevo farmi una terza Invece ho una seconda Perch e volevo farmi un po' pentita